Il concertone sarà un momento di festa, di musica, di grande musica, una piazza ci auguriamo piena, piena di giovani. Per noi ovviamente sarà anche il momento di trarre qualche spunto di riflessione rispetto a quelle che sono le condizioni del lavoro, la tanta precarietà, la tanta insicurezza sul lavoro, la necessità di intervenire con provvedimenti efficaci che stabilizzino i rapporti di lavoro e che rendano possibile una vita dignitosa anche dal punto di vista retributivo lavorando. Ovviamente noi abbiamo come tutti gli anni coniugato insieme l'idea della giornata di mobilitazione di lotta che si svolgerà a Potenza con l'idea della giornata di festa che si svolgerà in piazza San Giovanni a Roma. Siamo contenti anche quest'anno di aver collaborato sia con Bonelli che con la Rai per la riuscita di questo evento.